What's up a tutti ciurma e benvenuti da Giocherine in questa nuovissima review. Quest'oggi ragazzi voglio presentarvi un prodotto che mi è stato inviato da Ludos che ringrazio ancora e sono le Ludos Ultra. Le cuffie Ludos Ultra ragazzi hanno un imballaggio semplice ma comodo. Nella loro piccola confezione di latta è incluso tutto quello che vi serve. Oltre le cuffie naturalmente troverete un comodo sacchetto per portarle dove volete senza rovinarle e un set di tre gommini classici di diverse misure intercambiabili in qualsiasi momento con quelli di default delle cuffie stesse i quali sono tra l'altro in memory foam sarebbe a dire che si adattano perfettamente senza troppa fatica al vostro orecchio permettendo un'aderenza perfetta e quindi un suono ottimale senza il fastidio dei rumori esterni. Da notare l'attenzione ai dettagli presenti ad esempio anche nella protezione in plastica per il jack 3.5 che le rende utilizzabili ovviamente con i più disparati dispositivi mobili e non. Non dimentichiamoci i magneti presenti nelle cuffie ragazzi addirittura che vi permetteranno di agganciarle intorno al collo con estrema praticità nel momento in cui non le starete magari indossando. Un altro valore aggiunto di queste cuffie ragazzi è dato dei materiali che guardate veramente ragazzi già al tatto danno davvero un'ottima impressione di qualità. Inoltre il cavo ha anche l'incredibile proprietà di non attorcigliarsi e tutti sappiamo quanto questa cosa si accomoda. Sul cavo stesso inoltre si trova il microfono assieme ad un tastierino che ha un pulsante per rispondere alle chiamate e un altro che scorre per poter regolare il volume direttamente dalle cuffie stesse senza doverlo stare a fare ragazzi dal telefono dagli altri dispositivi c'è una comunità allucinante. riguardo la qualità audio non posso essere estremamente professionale ragazzi lo sapete visto che non sono un'esperta ma comunque ho provato ad ascoltare musica anche al massimo del volume e non ho mai notato alcun tipo di fastidiosa distorsione notando inoltre che la riproduzione dei bassi è davvero buona. Anche nelle chiamate l'audio è nitido e chiaro e il microfono trasmette la voce in maniera altrettanto chiara. Stavo quasi per dimenticare qui da me le vedete soltanto in cinque colori ragazzi ma sappiate che le ludos ultra sono disponibili in ben 11 colori diversi insomma c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Io penso non si possa chiedere nulla di più da un paio di cuffie e credo che il loro punto forte sia anche il rapporto qualità prezzo. Trovate quindi in descrizione ragazzi il link che vi porterà direttamente sulla pagina per poterli acquistare comodamente su amazon, il link al profilo instagram di ludostech e anche il link che può condurvi al programma tester in caso foste interessati a diventare anche voi dei tester dei prodotti ludos. Quindi questa review termina qui grazie a tutti i ragazzi vi mando un bacione e obdoscio a tutti i ragazzi da giocherina. Ciao!